Giuseppe Polo In pratica, noto Bossi Peti, è accaduto quello che è successo qualche settimana fa ora ormai, quando l'ospite Amileo Mingli è stato criticato per la sua celebre battimento, era molto tempo che Foglia non appariva in tv. Dopo le critiche, ha commentato, mi è piaciuto molto cantare con Timoni, è bravissimo, è molto più Foglia è l'unica che è riuscita ad interpretare davvero questa canzone dal 2005 ad ora, lei si è messa in gioco, non è facile. Ha fatto un'interpretazione magisteria. Infatti, ha fatto un'interpretazione.